Verrà presentata questa sera a Palazzo Coccia a Cirignola il libro Ciò che appare, ciò che è, di Domenico Farina, avvocato ed ex assessore, promosso dall'Associazione di Promozione Sociale Oltre Babele. Il libro è edito dalla Enter Edizioni e vede come protagonista un noto avvocato del foro alle prese con una lunga serie di storie, tra l'altro ispirato a un processo del passato e a fatti realmente accaduti. Interverranno la Presidente di Oltre Babele, Rossella Bruno, Genaro Balzano responsabile della Enter Edizioni. La serata sarà moderata da Antonio Tufariello della Gazzetta del Mezzogiorno, Mimmo Siena, Speciale News.